è il suo momento allora quando ha iniziato con noi con me questo viaggio un suo cavallo di battaglia che è rimasto veramente un pezzo molto molto bello molto importante lo ripropone questa sera dopo quanti anni insomma un pochino sicuramente sarà molto emozionata quindi Vanessa Rossimori nella cameriera secca dei signori montagnè già sapete salve sono la cameriera secca dei signori montagnè mi hanno mandato a chiamare ed sono a corsa subito cosa accade cosa accade s'accade cosa accade cosa accade cosa accade salve no dopo salve no salve no salve sono la cameriera secca dei signori montagnè adesso tutta casa e chiesa tutta casa e chiesa mai in apprezzamento staracchia che sono chi chi vuole che mi singa chi chi vuole che mi singa chi chi vuole che mi singa no evitando di dire la parolaccia che aveva in mente salve 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 sono la cameriera secca dei signori montagnè adesso il pranzo è servito la signora arriva subito drina no drina oh mi vogliono dare i cappotti si accade no 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 si signora arriva subito, subito secca, sono la cameriera salve, sono subito dopo, sono la cameriera secca dei signori secchi, montagna e salve, sono la cameriera dei signori montagna e secchi, sono secca, sono secca, secca, sono la cameriera secca dei signori secchi, montagna e salve, secca, salve, secca, sono secchissima, sono la cameriera secca del signora montagna e secca, dopo salve, sono la segreteria telefonica della cameriera secca dei signori. Montagnè Secchi, salve, salve, sono la cameriera secca dei signori Montagnè, oh e basta così. Vanessa Rossimori, è una grande interpretazione.